Tante cose sono anomale in questa gestione, ma penso di aver già chiarito in modo fermo qual è la mia posizione. Certo, in una condizione normale dovrebbe stupire e anche un po' preoccupare una risposta da parte di un collegio sindacale, di un organo tecnico terzo di controllo e vigilanza che entra nel dibattito politico, societario, istituzionale dopo una spaccatura come quella che si è verificata per la sua nomina. Qui nessuno ha mai messo in discussione la professionalità dei singoli componenti del collegio, la competenza e ciò che è stato messo in discussione pesantemente, profondamente e che mina sicuramente sul piano del metodo appunto questa nomina e il percorso con cui si è arrivato appunto a nominare questo collegio. Quindi frutto di una spaccatura senza un coinvolgimento, una nomina blindata praticamente rispetto alla quale non ci si è aperti al confronto, alla valutazione anche delle altre proposte di candidatura che pure sono emerse. Tra l'altro è particolare, anche un po' strano, che il collegio sindacale utilizzi un'espressione in riferimento alla mia nota parlando di personalissima battaglia. E' strano sotto due profili. Primo, che si tratta un po' delle stesse parole che si utilizzano nella discussione, nel dibattito politico-istituzionale di questi anni in merito alle partite, alle questioni che abbiamo discusso sulla Ruzzoreti. Secondo, non mi sembra tanto personalissima, intanto perché nell'assemblea dell'altro giorno l'azione è stata portata avanti insieme dal sottoscritto e dal sindaco di Montoro, Fabio Altitonalte, che dichiara estrazione diversa dal punto di vista politico e con un'amministrazione diversa. Quindi c'è una profonda lacerazione anche trasversale nel centro-destra e che dimostra che non si tratta né di una battaglia politica né pregiudiziale contro qualcuno, ma per il bene della società, per il bene dei cittadini. Perché il percorso di nomina è stato iniziato da questa frattura, da questo non coinvolgimento che era necessario, anche perché è stato chiesto con grande serenità, nella nomina dell'Organo Terzo di Controllo e di Vigilanza, che invitiamo quindi serenamente a lavorare nel corso di questi anni. Quindi stiano sereni, stiano tranquilli, pensino a lavorare per il buon funzionamento della società, una società che a noi sta a cuore, che sta a cuore anche ai cittadini che ne pagano le conseguenze, pagano le conseguenze di una gestione sbagliata, eccessivamente onerosa e anche perché sono chiamati questi componenti ad un'attività di controllo interna che deve rispettare i moniti dell'autorità di controllo esterna che più volte ha segnalato ciò che non va nella società e che deve essere rimesso a posto. Quindi contribuiscano ad aiutare a un percorso di salvataggio di una società che rischia nel 2023 di non avere l'affidamento in house se continua ad essere gestita in questo modo.